Voi state sentendo? Lui dice però, lui dice era stato promesso a me, ma Meschino non è che lo fa per male, lo fa per una brutta abitudine del passato. E' vera poi. Oh, ma chi è questa faccia? Forza, non ti devi spaventare, vedi che io ti voglio bene. Devi solo cambiare abitudine. C'è a tutte quanti, ma cambiare abitudine.